Alens ha deciso di sostenere il progetto Pavia città di impatto positivo ritenendolo un progetto che può portare davvero del valore sul territorio e perché rispecchia quelli che sono realmente i valori, i nostri valori, i valori di Alens, il tema dell'ambiente, il tema della formazione sui giovani, tutte tematiche in cui noi crediamo e siamo convinti che possano anche farci conoscere sul territorio come società che vive di questi elementi. Per questi motivi abbiamo anche deciso di diventare società Benefit.